Paolo Ingrosso, hai iniziato bene il torneo, una vittoria 2-0. Sì, diciamo che è iniziato bene il torneo con questa vittoria, anche se dobbiamo migliorare ancora tanti aspetti, soprattutto fisici, perché torniamo da un torneo, abbiamo fatto in Norvegia, quindi siamo ancora molto stanchi e dobbiamo prendere ancora il ritmo torneo. Speriamo comunque che in questi giorni, anzi oggi abbiamo una mezza giornata di relax e quindi domani ritorniamo più carichi per il prossimo match.